Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo all'esterno dello Stadio San Paolo oggi è una giornata molto importante, oggi è 22 aprile e il Napoli incontrerà la Juventus partita molto importante e decisiva per lo scudetto, il Napoli si trova a meno 4 dalla capolista Juventus e lo scontro si prospetta di fuoco in quanto le due squadre, soprattutto il Napoli, è in difficoltà in questo periodo nelle ultime sette partite soltanto tre vittorie In caso di pareggio sconfitta, io ovviamente, è difficile Se non vince è finita. Una notte a meno uno sarebbe un po' cosa è stupendo, perché poi, una volta che tu vai a vincere lì, comunque l'avvento di subpesa lo sentirà. Il Napoli stasera si gioca tutto per tutto. Si gioca l'ultima chance per poter essere ancora lì. Ecco il suo cross in aria, Coulibaly! Go! 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 Coulibaly, Coulibaly, Coulibaly! Cogliagno in testa, fatte puffare! Silenzio, silenzio all'inizio in stadio! Il Napoli va all'assalto del palazzo e riesce a realizzare il gol del vantaggio. L'UV2-0, Napoli-1! Il Napoli L'UV2-0, Napoli-1! L'UV2-0! L'UV2-0, Napoli-2! e Avevano detto che l'avrebbero giocata come una finale e l'hanno persa, come nel loro finale di cento. Sì, sono abituali.